Grazie ragazzi, stiamo a metto tutte le mani, non iniziamo Le mani al cielo, vi do il benvenuto sul music Ci siamo, oh si muove Ehi ragazze, non mi credo, dove sono le mani? Eccolo dai, si muove il music Ehi veloci, siamo presentati molto bene, lo rifacciamo Mani su, mani su, le mani su Le facciamo battere, come batte la musica a tempo ragazzi E allora famore, adesso mandiamolo forte Allora ragazzi, come inizionete mai? Esageriamo un po', fatemi vedere quale mani ho c'è Ragazzi, le mani su, le mani su, dove sono? Ragazzi, voglio presentarmelo Ehi, siete su il music express Chioma, chioma Un piano, prendiamo, è steadierà Guten Klub억 L scorre, non mi credo, livello Ehi, però, voglio le gambe su, su le gambe, su le gambe Ehi, però sono forti le ragazzi del music Adesso adesso ci siamo Ragazzi, il mio treno è un ruolo forte Uno, due, tre Adesso arriva il momento del music Ehi, il mio treno è un ruolo forte Eccoli Allora c'è qualcuno che vuole scendere lì sopra Ragazzi, se volete scendere Allora portateli su le mani Ci siamo, è pronti, arriva Ragazzi, ragazzi, ci prepariamo un video finale Allora c'è qualcuno che vuole scendere lì sopra Allora c'è qualcuno che vuole scendere lì sopra Che è il mio treno è un ruolo forte Per le cose lì Che è il mio treno è un ruolo forte Ragazzi, molto bene Ragazzi, molto bene Grazie a tutti Grazie a tutti